La nuova Igor Volley di Massimo Barbolini riparte da quattro certezze. Continueranno a vestire la maglia azzurra infatti Stefania Sansonna, Cristina Chirichella, Sara Bonifacio e Celeste Plac, tutte forti di un contratto in essere con la società novarese. Stefania Sansonna ha rinnovato il proprio accordo con il club già prima dell'epilogo tricolore, legandosi per un'altra stagione, la quarta con la maglia Igor, la sesta totale a Novara, alla città che è divenuta ormai sua patria adottiva. Sarà la quarta stagione in azzurro invece per Cristina Chirichella e Sara Bonifacio, legatasi al club con un nuovo accordo biennale con scadenza 2019. Seconda stagione da Igorina per Celeste Plac, già grande protagonista nel corso della sua prima stagione azzurra. Le conferme rappresentano un importante legame con la stagione appena conclusa, spiega il DG Enrico Marchioni, e segnano nel modo migliore l'inizio di un nuovo ciclo, nel segno del rinnovamento, ma non della rivoluzione. Parallelamente all'arrivo di volti nuovi, infatti, ci stiamo dedicando a ulteriori conferme che andrebbero a rinsaldare ulteriormente quello che sarà il nucleo storico del nuovo gruppo. Un pensiero particolare lo dedico a Stefania, Cristina e Sara, che saranno con noi per il quarto anno consecutivo e che rappresentano ormai delle vere e proprie bandiere per il nostro club.